Attenzione, se non fermiamo la curva, il nostro personale sanitario non ce la farà reggere l'onda d'urto. Paghiamo il prezzo di aver tenuto per troppi anni una norma che ha bloccato la spesa per il personale sanitario a quella del 2004 meno l'1,4%. Per me questo, quello del personale, è il problema più serio con il quale fare i conti. Un respiratore, una mascherina si può comprare, un medico, un anestesista, un infermiere non si compra al mercato, non si può improvvisare. Ci vogliono anni di formazione e di investimento e dobbiamo avere il coraggio di dire questa verità.